Nuova recensione di un film cult e in questo caso vi parlerò di uno dei film horror più cult di tutti i tempi famosissimo tra gli appassionati di cannibalismo e cioè The Green Inferno, film di Eli Roth ve ne parlo perché a breve, a giorni, uscirà il nuovo film di Eli Roth, di questo regista, Thanksgiving quindi mi sembra interessante andarvi a parlare del suo film più famoso essenzialmente The Green Inferno è stato scritto, diretto e prodotto, ha fatto tutto lui proprio da Eli Roth quindi lui è l'autore a tutto tondo di questa boiata e perché l'ho definita già una boiata? Perché essenzialmente la sceneggiatura è una vera e propria boiata di cosa parla The Green Inferno? Parla di questo gruppo di ambientalisti che si recano nella foresta marzonica in Peru per difenderla quindi per difenderla dall'abbattimento delle ruspe, insomma dalla deforestazione e quindi salvare le popolazioni indigene che vivivano però, guarda caso, vengono proprio catturati e mangiucchiati da una popolazione indigena del luogo quindi è letteralmente una perculata nei confronti degli ambientalisti che fra l'altro andrebbe molto di moda di questi tempi dato che gli ambientalisti, al di là della propria opinione personale in merito al problema climatico, al problema ambiente diciamo che negli ultimi anni non si stanno comportando nel modo più intelligente infatti stanno diventando mira anche di un certo tipo di violenza basti pensare solo a qualche giorno fa che un tizio ha sparato due ambientalisti che siano messi in mezzo alla strada e come dicevo la sceneggiatura è quanto di più stupido ci possa essere per quanto sia comunque simpatica e divertente a modo suo proprio per l'ironia del destino a cui vanno incontro questi ambientalisti i vari personaggi, appunto questo gruppo di ambientalisti sono tutti stereotipati non c'è un granché di approfondimento dei personaggi non c'è una grande caratterizzazione basti solo pensare che la protagonista principale del film è praticamente una classica ragazza viziatella di figlia di papà come si dice dalle mie parti e dato che si annoia si mette a pensare alle cause ambientali quindi è praticamente un classico cliché e anche tutti gli altri personaggi che non hanno, ripeto, non hanno alcun tipo di background sono messi lì solamente per rappresentare un dato tipo di personaggio e finisce lì quindi se la scrittura è poca roba qual è la forza di questo film? e perché è diventato un caldo? la forza di questo film è essenzialmente nel realismo delle scene gore delle scene più spietate delle scene che puntano al realismo di quello che vediamo quindi se la scena ci deve mostrare un braccio che viene tagliato o una lingua che viene tagliata o un occhio che viene sgusciato dall'orbita oculare Eli Roth ci mostra esattamente quello che ci aspettiamo di vedere senza alcun tipo di censura tra l'altro contornato dalla sofferenza e dalle urla delle povere vittime quindi per quanto la creatività gore sia anch'essa molto semplice molto banale risulta efficace proprio per il realismo e per la lucidità mi verrebbe da dire con cui Eli Roth ce le mostra ma Eli Roth è bravo anche a costruire tutto ciò perché prima di arrivare alle scene appunto più forti c'è tutta una costruzione visiva, registica in cui lui ci mostra il cibo mentre viene mangiato c'è ad esempio un'inquadratura di un piatto di carne che viene tagliato e che quasi ti ispira disgusto ad anticipare quello che poi avverrà in seguito insomma la regia di Roth è sicuramente la principale qualità di questo film che posso dire lo ha reso appunto il cult che è diventato in modo particolare c'è una scena quella del ragazzo un po' più in carne il ragazzo un po' più grasso che viene praticamente messo sul tavolo tagliuzzato, mangiato tutto il tutto mentre è ancora in vita che è diventata una delle scene più famose di questo sottogenere dell'horror quindi la bravura di Eli Roth è stata essenzialmente questa non sta nella scrittura, non sta ovviamente nell'idea ma sta nel come lui è riuscito a mostrarci le scene più forti lui voleva mostrarci quel tipo di sadismo quel tipo di pratiche e ce le ha mostrate nel migliore dei modi e nel modo più diretto possibile e infatti come ho detto il film risulta decisamente efficace da un punto di vista visivo quindi io consiglio questo film a chi ancora non l'ha recuperato per gli appassionati del genere se vi piace l'horror un po' più spinto quello che effettivamente riesce a disgustarti allora questo è il film che fa per voi ovviamente se siete sensibili a queste tematiche lasciate perdere anche perché non troverete jumps che non troverete le solite minchiade degli horror commerciali ma vi ho spiegato quello che troverete quindi se volete recuperarlo a vostro rischio e pericolo detto questo sono molto curioso di vedere il prossimo film quindi di Eli Roth ve ne parlerò ovviamente il giorno appena uscirà al cinema a breve e io quindi ho finito vi saluto a presto ciao